Friuli Venezia Giulia stretto nella morsa del caldo come tutta Italia, 33 gradi di picco a Trieste e 35 nella bassa pianura friulana. Che la situazione sia da bollino rosso evidente a tutti in queste prime vere giornate di estate torrida, tra notti insonni e calura imperante. In tutto il bel paese la situazione è la stessa con un picco addirittura di 45 gradi in Sardegna. Le raccomandazioni sono quelle di sempre, evitare di stare al caldo e sotto il sole nelle ore centrali della giornata, bere molto, alimentarsi con cibi leggeri privilegiando verdura e frutta ed evitare la disidratazione anche con eventuali integratori. Specie gli anziani e le persone con patologie croniche devono fare particolare attenzione in questo momento. La svolta a meteo in realtà è già all'orizzonte. Domani, domenica 2 agosto, primi possibili temporali sul Friuli della montagna con ancora caldo affoso sulla costa. Lunedì invece un fronte perturbato inizierà a interessare tutta la regione con piogge temporali e vento. Da martedì la colonnina di Mercurio dovrebbe quindi far registrare temperature decisamente più fresche.